Per me è un piacere fare la presentazione BIS, strafelice di essere tornato, io devo ringraziare la società e il personal direttore perché c'è stato un dialogo da quando sono andato via, sempre nel massimo della correttezza e della trasparenza da parte di tutte e due, e infatti poi la cosa si poteva solo risolvere al meglio e spero di ricambiare la fiducia che mi ha dato il direttore della società e di mettere a disposizione l'esperienza che ho, sempre però mettendo davanti la squadra, il gruppo e le scelte dell'allenatore. La scorsa volta lo vogliamo vedere, per me è un esordio. Io ho il dovere di lavorare e di mettere in difficoltà l'allenatore, poi qualsiasi scelta ormai anche alla mia età è ben accetta perché uno quando matura capisce che non è importante il singolo di per sé ma ogni componente della squadra sia che puoi fare un ruolo da protagonista che non. Visto perché ti senti come tu i 18 anni? Sì ma vabbè su quello mi sento sì un ragazzino, cioè fortunatamente facendo le corna il fisico sta bene, la testa ancora di più e io volevo tornare, mi hanno accontentato, sì che ci sono tutte le premesse per dare un aiuto alla nocerina. Grazie. 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 Grazie.